SIGLA Hai fatto un affare! Lo so! Grota! Non è un'ora che è mai bendata! Quando arriviamo? Fidati, fidati, fidati! Ta-da! E che ci dobbiamo fare con questo catorcio vecchio, Luigi? Ma questo non è un catorcio, amore! Questa è una macchina da soldi! Con questo fresiamo, ariamo, coltiviamo la terra! Manei, manei, manei! Ma speriamo! Vallo ad assicurare contro furto e incendio, eh! Ma no, amore, ma chi se lo ruba questo? Vallo ad assicurare contro furto e incendio! Ora! Chi dice donna evita il danno! Ora! Sì, amore! Vallo ad assicurare contro furto e incendio! Vallo ad assicurare contro furto e incendio! Vallo ad assicurare contro furto e incendio! Sì! E se coltivassimo... patate? Carote! zechine! Zucchine, peperoncini, ce l'ho, la canapa, a uso medico, dottor Cino, sentiamo, ma perché coltivare questi frutti che coltivano tutti? Pensa se coltivassimo papaya, banane, mango, avocado, la frutta esotica, grande! E il trattore dov'è? Non c'è! L'hanno rubato! Meno male che l'avevi assicurato! Perché lo avevi assicurato, no? E poi tu dici a me che io sono scaramantica, il sale, i cornetti, le cose succedono, hai visto? Come facciamo adesso senza il trattore? Come facciamo? Ma perché non lo hai assicurato? Assicurarsi è un attimo di vita prezioso! E poi l'idea della papaya, il mango, l'avocado! Oh, è sempre colpa tua, è sempre colpa tua! Dica a te, renta a te, eh! Cretino! Buon notte, amore!